A seguito dell'interruzione dell'esercizio dell'acquedotto Ancipa dovuta all'esecuzione da parte di Sicilia Acque di interventi di manutenzione lungo la condotta nel territorio di Leonforte, si registrano delle variazioni nella distribuzione in alcuni comuni del Nisseno. A Gela oggi niente acqua nelle zone Caposoprano Alto e Basso, Fondo Iozza, Scavone Alto e Basso e Montelungo, ad eccezione della zona Macchitella che rimane in H24. A Mazzarino la distribuzione prevista nella zona Ammarcadante per oggi slitta domani, mentre le altre zone servite dalle fonti proprie non subiranno variazioni. A Riesi oggi la distribuzione avverrà regolarmente ma con un leggero anticipo nella chiusura. A Butera, zona balneare, da oggi e fino al ripristino delle forniture non ci sarà distribuzione.